Segui La7 anche su Instagram. La7 ovunque con te. Si può chiamare anche con l'asterisco se vuole, non credo, ma il punto fondamentale è che tutto si può dire alla Presidente Beloni, tutto, ma proprio sul fatto del suo essere donna andiamo a attaccarla. Cioè, scusate, la trentunesima Presidente del Consiglio, dopo 30 maschietti, è una donna.